Benvenuti nel mondo degli orologi Louis Vuitton. Louis Vuitton è un marchio di lusso francese fondato nel 1854, che ha conquistato il mondo con le sue borse e accessori di alta gamma. Tuttavia, il marchio offre anche una linea di orologi di lusso dal 2002, che si sono rapidamente affermati come simbolo di stile e status. Gli orologi Louis Vuitton sono realizzati in Svizzera, utilizzando solo i materiali più pregiati come l'oro, l'argento, il platino e i diamanti. I movimenti sono prodotti in collaborazione con alcuni dei migliori orologiai svizzeri, come la Fabrique du Tampe e la Manifattura Svizzera di Movimenti di Alta Gamma, la Jupe Re. La collezione di orologi Louis Vuitton offre una vasta gamma di stili, dal classico al moderno, e presenta caratteristiche innovative come i quadranti in madreperla e le complicazioni di alta gamma. Tra i modelli più iconici del marchio, troviamo la collezione Tambur, caratterizzata da un design distintivo a forma di tamburo, e la collezione Scal, che presenta quadranti colorati e vivaci ispirati ai viaggi. Oltre alla qualità dei materiali e alla precisione dei movimenti, gli orologi Louis Vuitton si distinguono per il loro design innovativo e raffinato. Ma gli orologi Louis Vuitton non sono solo oggetti di lusso e di design, sono anche investimenti duraturi. Grazie alla loro qualità e alla loro esclusività, gli orologi Louis Vuitton possono mantenere il loro valore nel tempo e diventare oggetti da collezione. In conclusione, gli orologi Louis Vuitton rappresentano l'eccellenza dell'orologeria di lusso. Grazie alla loro qualità dei materiali, alla precisione dei movimenti, al design innovativo e alla possibilità di personalizzazione, sono diventati oggetto di desiderio per molti appassionati di orologeria e collezionisti. Se stai cercando un orologio di alta qualità e di design unico, gli orologi Louis Vuitton sono sicuramente un'ottima scelta.